La situazione dei canali padovani, come era stato previsto, peggiora di giorno in giorno, rendendo difficile il salvataggio dei pesci. In molti punti della città si segnalano la presenza di carcasse che emanano cattivi odori. Durante il tavolo tecnico settimanale sull'emergenza siccità, il comune di Padova con Accegassa, PS e AMGA ha disposto per i prossimi giorni un monitoraggio per poter procedere con un'intensa pulizia dei canali. La prima fase prevede l'analisi del canale Santa Chiara dall'ospedale alla Questura per verificare anche la regolarità degli scarichi. Altro sorvegliato speciale è il canale San Gregorio, da cui si attinge per raffreddare l'inceneritore di San Lazzaro. Ad oggi il livello dell'acqua è tra i 10 e i 15 centimetri, con una previsione di calo di circa 2 o 3 centimetri al giorno. Dunque si stima la chiusura dell'impianto entro la settimana, salvo fenomeni piovosi che potrebbero far migliorare la situazione.